Sono scesi dal Pullman alle 13.09 di venerdì in arrivo da Marghera, ma il viaggio è stato più lungo. I primi 28 migranti che saranno ospiti per tre settimane circa alla Scuola Media Falconetto nel quartiere Forcellini a Padova. Una struttura scelta perché è dotata di docce, ha spiegato il primo cittadino Sergio Giordani, che ha risposto all'appello lanciato dalla Prefettura. In totale gli ospiti qui sono 32, a cui si aggiungono quattro minori non accompagnati, che hanno già raggiunto strutture idonee e una famiglia. A seguirli gli operatori del Consorzio di Cooperative Veneto insieme alla Croce Rossa, che ha allestito la palestra per l'accoglienza e darà assistenza per la distribuzione dei pasti e sul fronte sanitario. Questo team è già pronto e si presenterà in queste sedi secondo una scaletta di giorni che è stata concordata con la Prefettura. Dico subito che siccome molto verosimilmente questi sono migranti che provengono dall'Hot Sport di Lampedusa, che l'Hot Sport di Lampedusa è gestito da alcuni mesi e sarà gestito fino alla fine del 2025 dalla Croce Rossa italiana. Là ci sono 50 dipendenti e 70 volontari, tra cui ce ne sono sempre alcuni di Padova. In questo momento ce ne sono due di Padova, tra cui un'infermiera. Tutti i migranti che provengono da lì sono già stati sottoposti a una valutazione medica. Esclude l'arrivo di migranti con patologie aperte o affetti da malattie infettive, il presidente della Croce Rossa, che racconta le condizioni con cui spesso arrivano sulle coste italiane queste persone. Arrivano ustionati per il viaggio nel mare, arrivano consegni di percosse, qualche volta arrivano gravide in fine di gravidanza, sono nati tre bambini in una settimana. Ecco, quindi io ritengo che la parte sanitaria del nostro dispositivo sia sicuramente utile, sicuramente importante, ma mi sento di essere assolutamente come medico, oltre come presidente del comitato locale, rassicurante. Nelle prossime ore arrivi sono attesi anche la palestra di Feriole, attrezzata per ospitare 35 persone.